Irene Bellifemmine, sindaca uscente, fosse rieletta, quale sarebbe la prima cosa da fare? Innanzitutto mi concentrerei sulla costituzione della squadra. Ho la fortuna di avere nel mio gruppo tante persone con alti livelli professionali e quindi è importante concentrarsi e cercare persone che siano disponibili, competenti e che abbiano idee e progetti per la città. La seconda azione che farei subito dopo è quella di una rivalutazione del piano delle manutenzioni che sia un piano triennale e che possa superire alle lacune di questo periodo ma soprattutto rispondere immediatamente alle esigenze del territorio. Come rispondere a una popolazione che invecchia? Per gli anziani cosa potrebbe fare oltre a quello che ha fatto? Secondo me ci dobbiamo concentrare su due aspetti. Uno è quello del supporto e del potenziamento dei servizi. Dall'altro dal punto di vista culturale e sociale per favorire la socializzazione degli anziani e prevenire l'isolamento. Per i servizi innanzitutto noi vogliamo costituire il custode sociale che è questa figura che possa giornalmente seguire l'anziano o le famiglie. Un altro obiettivo è quello di istituire uno sportello dove l'anziano stesso o le famiglie possano ricevere risposte o supporto per la gestione dell'anziano. Chiaramente vogliamo continuare a lavorare sul solco dell'organizzazione dei servizi e il potenziamento dei servizi nella casa di comunità SPOC e la collaborazione sul territorio con le agenzie o le associazioni che esistono. Quello che vogliamo fare è anche potenziare i servizi dal punto di vista sociale perché possano gli anziani avere delle possibilità culturali, ludiche, sociali e non isolarsi. Quindi sul solco di quello che è il centro di aggregazione, il centro Lena Lazzari, continuare su quel solco e trovare altre forme di collaborazione ma soprattutto offrire possibilità come il potenziamento dei servizi nel polo culturale che verrà poi istituito. E per i giovani invece? I giovani, altro tema importante, fondamentale è la prevenzione del disagio giovanile. Sul bilancio devono essere allocati dei fondi e questi fondi devono essere presenti per i cinque anni in modo che si possa fare azioni di prevenzione. Vogliamo innanzitutto istituire la consulta giovanile che vada nella prospettiva di rendere i giovani sempre più partecipi nell'educazione civica, nell'attività civica della città. Quindi poi fornire la possibilità di avere attività culturale a loro dedicate e come? Anche istituendo dei punti di aggregazione nei luoghi che andremo a potenziare. Inoltre, a livello sportivo, vogliamo continuare sul solco della rigenerazione urbana attraverso le istituzioni di altri centri sportivi all'aperto come quello che abbiamo istituito al Castello, l'area fitness, per dare la possibilità ai ragazzi di fare sport a livello generale su tutto il territorio. Sappiamo che lo sport crea aggregazione e perché no il nostro sogno è quello di realizzare uno skate park che i ragazzi tanto chiedono. Come rendere Malnate più attrattiva? Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la realtà commerciale, con la realtà del DUC, del distretto urbano del commercio, che finalmente siamo riusciti a ottenere su Malnate e che porta delle fonti di finanziamento. Quindi innanzitutto fare delle progettazioni mirate che potenzino la cultura ma anche il commercio e poi cercare di collaborare con le realtà del territorio anche per potenziare quelle che sono le prospettive dal punto di vista turistico legate all'ambiente.